Quindi mi stai dicendo che sei una sorta di... Foodblog? Prima che lo ammazzi Ciao! Cassian Under, non preferisci dare tutto? No, non preferisco, avete rotto il cazzo Voi e Star Wars di merda, dio porco È finito 800 anni fa, avete rotto i coglioni Di marciarci sopra un universo di merda che fa schifar Cazzo da anni, porco, di dio A meno che non mi pagiate per la tv, in quel caso È veramente un gran film che non vedo l'ora di vedere